ciao amore ciao a tutti e benvenuti amici di gioca con jada ma cosa apriamo oggi le nuovissime l'hol surprise che si chiamano present surprise questa è la deluxe c'è di due colori noi l'abbiamo scelta verde acqua perché a me piacevano un sacco un sacco un sacco loro e quindi io ho scelto questa ho preferito così però ci sarebbe anche rosa questo poi abbiamo passami una di quelle scatoline che la guardiamo tutta eccole qua le piccole present surprise anche queste sono meravigliose devo dire che migliorano di volta in volta le lol scusa scusa allora ci sono otto sorprese casinista ma apriamo prima quella piccola allora apriamo le piccole speriamo di non trovare un doppione apriamola sul coperchio e una borsina di carta che bella è l'unica e quante bustine ci saranno tantissime no non vediamo la ciclista non la vediamo ma a me non me la fai vedere un po' la ciclista no questo credo che la log e si penso anch'io diciamo una cosa molto importante oh qua 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 hai lasciato dentro un pezzo tiralo fuori che cos'è cos'è giralo ah si monta questo il cappellino per il party diventa un cappellino adesso lo montiamo ed ecco già da party mettiamolo dentro qui mettiamolo qua no ma che deve andare lì è un cappellino guardate che carino dopo glielo mettiamo alla lol dai allora abbiamo le bustine ragazzi voglio dirvi una cosa molto importante la giochi preziosi ha reso tutto di carta anche le bustine sono di carta ora guarda una gonnellina di velluto gialla la fretta si era dimenticata di farci vedere l'indizio allora ci sono quattro bambine più una fotocamera foto di gruppo gruppo foto va bene chi lo sa lo scopriremo ecco posto una borsetta una borsetta festa yeeey borsetta festa allora guardate il vestito che bello è tutto dorato e giallo ma allora ah è bellissimo nooo il cappellino ma che meraviglia ragazze ha il cerchietto con il cappellino della festa che cacca cosa ho trovato secondo me queste lol sono stupende che cosa abbiamo trovato? un pezzo di pizza una pizza? si ah si questo è net la forma di cuore però ha un ciondolo un mezzo ciondolo cuore un liberano vediamolo credo che questo cambia colore lo sai? lo dici? si è bellissimo comunque mi sembra che cambia colore ok perché quel colore scullo mi sembra che cambia colore potrebbe essere cosa sono? li stivari e facciamo finta che qui c'è attaccata la neve ma è di pelo ti prego dammeli in mano che li faccio vedere eccoli qua ragazzi sono tutti pelusciosi questa lol è stupenda è bellissima ciao io sono Dominique Dominique? fa vedere Dominique qua eccola ragazzi allora scopriamo se cambia colore vediamo la checklist allora la nostra amica è proprio lei ma sono tutte stupende e si chiama scopriamo scopriamo pumpkin spice fammi vedere allora lei è di novembre Giada ma è il tuo mese di compleanno allora noi andiamo venuti di compleanno insieme ma si lei è proprio nata a novembre ma pensa guarda quest'anno le lol come vedi queste qui nuove sono un calendario sono 12 e c'è gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre noi abbiamo trovato proprio il novembre che è il mese della tua data di nascita e così può fare il compleanno con me esatto che bello allora scopriamo che è allora lei ha un cuoricino sei pronta a scoprire che è un ultra l'ultra rara abbiamo trovato un'ultra rara e ce n'è una sola di ultra rara ma quanto sei stata fortunata l'ultra rara oltretutto è del tuo mese del compleanno ragazzi siamo stati super fortunati allora lei sputacchia ma quindi secondo te non cambia colore sputacchia e basta vogliamo provare con l'acqua fredda? sì dai prendiamo il bicchiere da coppia guarda vediamo se per caso cambia colore tagliamo il capellino ok ma mi sa proprio che lei non cambia colore ma sputacchia sputacchia ho riempita troppo poco per fare lo scherzo a Giada vannaggia riempiamola di più attenta attenta che bagni tutta la checklist rispettosona allora lei adesso la vestiamo ve la facciamo vedere tutta pronta Giada ha trovato un bel soffione facci vedere esprime il desiderio ma non si fa così quel soffione aspetta perché guarda ce n'è un altro? prendi dai soffia forte brava allora eccola qui ragazzi tutta vestita e preparata a festa la nostra ultra rara pantin spy ci qua abbiamo aperto la seconda guarda ed è già diverso quindi sicuramente non è doppia guardate questo cappellino è diverso meno male è azzurro lo sai chi è? azzurro? mi sembra proprio lei l'azzurra ce ne sono tante azzurre c'è lei? no no credo che sia proprio lei questa è verdina questa è azzurra io credo che è proprio lei questa è violetta beh diciamo che potrebbero essere in tante non è detto questa è la Lola quella è la Lola lasciamo lì porta aperta più due regali quindi opening present apertura regali ok ando allora scopriamolo subito l'ho trovato dammi qua è lei hai già trovato chi è? non ci credo Giada eh ma non ci credo veramente tu lo sai che lei è il gennaio e la mamma è nata a gennaio cioè abbiamo trovato i nostri due compleanni non ci voglio credere fammela vedere anzi no la facciamo vedere dopo ragazzi se è veramente così che abbiamo trovato gennaio c'è proprio una fortuna sfacciata sì anche io ho preso una fortuna bellissima allora c'è i nostri mesi di compleanno il mio è il tuo e meno male non c'è quello di papà è proprio quello che ma che bella è è proprio lei quello che che no vabbè ragazzi sono state super fortunate è questo ah 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 un soffiantino aiuto dove è finito dove è finito scusate mi era caduto il soffiantino qua come vedete eccolo lì mettiamolo lì prima che vola via tutto meno male che c'è un po' d'arietta però ci volano via tutte le bussine è qui che bello anche il biberon così non ce l'abbiamo mai avuto a strisce cosa abbiamo trovato lì le scarpe nere le scarpe nere glitteratissime wow oh la fascetta di miss Garnet sarà il suo nome lo scopriremo tra un po' com'è oh che bella che capelli sciccosi che ha allora vediamo come si chiama come vi dicevamo noi siamo stati super fortunati perché abbiamo trovato il mio mese e il mese di Giada lei si chiama miss piange 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 è una una fantastica diciamo è una delle fantastiche lei non cambia colore come vedete ma piange però piange dai fai la prova riempila piange eccola qui ragazzi quanto è bella ma quanto siamo state super 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 eccezionalmente fortunate a trovare queste due lolline sono stupende 1 gennaio e adesso cosa ci manca Giada il gigantosissimo il deluxe lo apriamo? di fronte e adesso ci manca ci manca ci manca